Ho pensato di presentare in tre video le 33 parole più potenti che incontro nelle mie ricerche. Le parole che usi sul tuo sito possono avere un effetto immenso sui potenziali clienti. Le parole possono fare male ma possono anche guarire. Nel marketing le parole giuste possono aumentare le vendite. Chiamo queste parole potenti perché vendono. La prima è TU. Il leggendario copywriter Gary Hartbert adorava questa parola. La parola TU rende il messaggio personale. Le persone che la leggeranno sentiranno che stai parlando con loro. Mi ha incuriosito un messaggio di Nike che utilizza la parola TU. Ieri tu hai detto domani. 2. Fiducia. Chi è stato tradito dalla fiducia è stato deluso. Prima che le persone possano darti il loro sudato denaro devono fidarsi di te. Se non possono fidarsi non possono comprare nulla. 3. Scopri. Stai guardando questo mio video perché vuoi scoprire qualcosa. I potenziali clienti leggono il tuo contenuto di vendita perché vogliono sapere cosa offri e come puoi aiutarli. Desiderano scoprire la tua proposta. Ecco perché questa parola attira attenzione. 4. Potente. Se una cosa è potente, questa cosa tu la desideri. Quando usi questa parola ottieni attenzione. Immediatamente. Sono sicuro che hai visto questa parola in molti titoli e testi di vendita. Molte persone sono impazienti. Vogliono qualcosa senza indugio. Se puoi mantenerla usa questa parola. Altro. Molti sono raramente soddisfatti di ciò che hanno. Vogliono altro. Poche persone vivono uno stile di vita minimalista. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone vive oltre i propri mezzi. I consumatori non sono mai stanchi di acquistare. Ho trovato un titolo su Amazon rivolto a chi vuole vendere. 4 modi per vendere molto altro su Amazon. Nuovo. Le persone vogliono cose nuove. Vogliono essere i primi ad acquistare un nuovo prodotto. Pensa al caso iPhone. A quello che accade ad ogni annuncio di nuovi modelli. Ricorda però di non presentare come nuovi i prodotti o i servizi che non lo sono. Oggi. Perché usare la parola oggi? Oggi è una parola potente perché significa che i consumatori possono ottenere qualcosa adesso, ora. A volte domani potrebbe essere troppo lontano. Ancora un esempio visto su Amazon. Utilizzano spesso la frase offerta odierna. Come. Sui motori di ricerca, ogni momento, milioni di persone cercano informazioni. Usando tantissime volte la frase come fare. Gli utenti vogliono imparare. Usa la parola come per significare che vuoi insegnare qualcosa di importante. Salva. Le persone vogliono risparmiare denaro. Tempo e impegno. Sono sempre alla ricerca di modi per raggiungere lo stesso risultato con meno tempo, denaro ed energia. Ecco perché la parola salva è una parola potente nella pubblicità. L'ultima parola di oggi è segreti. Le persone sono attavicamente affascinate dai segreti. È una parola che fa parte del subconscio. Quando leggi un titolo pubblicitario che contiene la parola segreti, facci caso, questa attrae e vorresti sapere qual è il segreto. Nel prossimo video presenterò altre 11 parole potenti. Usale nella tua comunicazione. Avrai una leva in più per aumentare il tuo giro d'affari. Vai. Alla prossima chicca. Alla prossima.